Ciao, io sono Mulasangelo, sono nato a Cagliari. Sono venuto in Moldavia la prima volta a dicembre. L'impressione è stata buona, anche il risultato. Ho inserito sei impianti superiori e sei impianti inferiori. Ho estratto dodici denti che avevo ancora miei. Ne ho passato tanti con il mal di denti, perciò non dico che era una passeggiata, però stavo cercando di risolvere il mio problema, è andata bene. Non ho sofferto poi così tanto. Mi sono sentito a mio agio, un ambiente buono, pulito, una grande famiglia, molto organizzati, molto veloci in tutto. Già il risultato mi ha cambiato notevolmente. Ero più tranquillo, più sereno, più felice. Sono rientrato a casa, i miei figli erano contenti, finalmente mi vedevano sorridere, più felice di sorridere. Prima sorridevo a metà, a bocca stretta. Il lavoro ormai è terminato, bello, sono contento del risultato. Ho già inviato le foto ai miei figli e loro sono felicissimi. No, sono contento di aver fatto questa scelta. La posso dire a chiunque abbia problemi di fare una scelta del genere. Il dottor Palmas ha una buona equipe. Ciao!